buongiorno voi dovete immaginare la vostra esistenza come se fosse praticamente una una un'auto da formula 1 monoposto cioè praticamente può solo a guidarla entrare una persona sola non possono non può entrarci più di una persona ecco quando voi oppure se volete potete immaginare un aereo sempre con un'unica cloche potete immaginare quello che cazzo volete sono tutte creatività meditative che servono dentro di voi per cercare di prendere maggiormente voi il controllo della vostra vita ecco in questo monoposto questo unico posto di comando potete metterci voi voi stessi nel momento presente e quindi controllare voi questa quest'auto questo aereo metteteci quello che che volete che sta procedendo oppure al posto vostro ci possono entrare altre mille cose ci può entrare l'ansia ci può entrare la nostalgia ci può stare il rimpianto ci può entrare la rabbia qualsiasi diciamo sentimento che non riguardi il tu qui ora in questo momento presente ovviamente le cose che dico come dico sempre non sono facili nella pratica da attuare come non è facile farsi i muscoli in palestra non è facile dimagrire non è facile imparare a giocare a calcio a tennis e tutto quello che volete però questi escamotage questi questi trucchetti con queste cose fantasiose che ogni ogni tanto vi sottopongo io e che potete voi in autonomia crearvene quante ne volete servono per addestrarvi ad entrare più nel momento presente quindi voi dovete capire che se nel momento presente non nel tu qui ora non entri tu automaticamente non è che ci sei un po tu è un po un'altra cosa in questo momento presente no o ci sei tu e lo comandi tu o se non ci sei tu quindi c'è ricordo del tuo ragazzo che ti ha lasciato due anni fa della tua fidanzata che ti ha lasciata sei mesi fa dell'ansia che deve venire per il futuro cosa c'è una per un'altra metaforica persona che sta guidando questa tua questa tua vita ecco tutta la partita sta nel riuscire a prendere con molta fatica e lavoro interiore i comandi di quest'auto i comandi di questo aereo i comandi di questa astronave metteteci il cazzo che volete ok chiudo qui un video brevissimo per favore mettete se insomma apprezzate questi miei contenuti un like iscrivetevi al canale sgrillettate la campanellina a me gira il cazzo solo per una cosa che se faccio un video in cui parlo così magari di argomenti non non importanti ho fatto anche un video sulla morte di franchino che per carità è un lutto è stata una persona iconica però prendo mille sette duemila visualizzazioni se faccio un video del cazzo dove parlo di fassino che si fa bieca mente beccare in un in un aeroporto a rubare un profumo come se fosse un ladro di galline quattordicenne faccio sono arrivato a fare anche diecimila visualizzazioni se faccio questi video qui che sono diecimila volte più utili non arrivo mai oltre alle 3 400 500 quando c'è il grasso di cola a me ripeto non me ne frega un cazzo perché non sono monetizzato però mi lascia la mano in bocca perché mi fa capire mi da sempre più la conferma di quanto la maggior parte della gente siano delle teste di cazzo purtroppo ok per cui mi piacerebbe se questi video qui molto più utili aumentassero un po nelle visualizzazioni se non aumentano benedico i due 300 400 ragazzi e ragazze donne uomini e via dicendo che mi guardano e gli altri cazzi vostri cioè vi date la zappa sui coglioni o sulle tette quello che è un saluto a tutti ciao